La Basilicata si conferma terra della settima arte anche attraverso Natali illustri. E' iniziata da Trivigno, centro del Potentino, la storia di Robert Vignola, ai primi del Novecento emigrato con la famiglia Negliusa dove divenne famoso in ambito hollywoodiano attraverso il cinema muto. Attore, regista e produttore e inserito a pieno titolo nell'Olimpo dei Divi, collaborò con i volti più noti del tempo e insieme alla compagnia Kalem realizzò spedizioni in Irlanda per girare pellicole con tecniche innovative. Mai così attuali anche i temi, a sfondo religioso nel ruolo di Giuda, all'interno del primo colossal dedicato alla vita di Cristo, From the Munger to the Cross, e sociale dedicato alla mafia. Nel rendere omaggio e dare avvio ad un percorso di valorizzazione, il profilo di Robert Vignola è stato raccontato in un docufilm della casa di produzione F9, lavoro minuzioso tra ricerca storica ed interviste di diverse personalità. L'iniziativa è stata ideata dal Comune, insieme a Regione Basilicata e Lucana Film Commission, promotore di un percorso per definire Trivigno quale centro di riferimento locale e magari nazionale per gli appassionati del genere. Ieri 28 agosto l'opera è stata proiettata per la prima volta in piazza Plebiscito, anticipata da un incontro istituzionale che ha dato il via al gemellaggio con le giornate del cinema muto di Pordenone, occasione per celebrare il compaesano illustre e guardare al futuro del territorio. Non è un cinema soltanto di nicchia, noi vogliamo innanzitutto portare nelle scuole il cinema in modo tale da far emergere quelle sensibilità e chissà che non nascono veramente dei genietti che possono vederlo con occhi di 80 anni dopo. Siamo vicino a grandi macroattrattori, potrebbe qualcuno anche essere interessato a venire a vedere qualcosa di culturale. Se dovesse nascere il museo del cinema muto qui a Trivigno, di una piccola comunità che si sta spopolando, la regione Basilicata sicuramente gli dovrà dare una mano.